Previsioni meteo per sabato 29 giugno. Al nord l'alta pressione non molla la presa rinnovando ancora tempo soleggiato e clima caldo su tutte le regioni. Al centro tempo stabile e soleggiato con cieli in prevalenza sereni o poco novolosi ovunque. Al sud l'alta pressione si rinforza ulteriormente garantendo così condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Venti deboli variabili. Mari da mossi a poco mossi. Le temperature in lieve calo.